Salve a tutti ragazzi io sono WD e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo finalmente nella nostra nuova serie di Minecraft Quindi vi do ufficialmente il benvenuto in Minecraft ETA Shader Survival Ok ragazzi la nostra casetta sembra essere ultimata, cioè ultimata tra virgolette Diciamo che le basi sono state piazzate Il tempo che sono andato, o meglio sono stato invitato, sono riuscito a trovare posto al Gamers Day di Milano del 25 febbraio Sono qui con Aaron Blades Ciao a tutti Che saluta i miei iscritti Iscritti suoi Esatto, iscrivetevi tanti Direttamente dalla sede di Google, un saluto Esatto E ragazzi sì, questo è l'ultimo episodio, l'ultimo episodio di costruzione per questa stagione ovviamente Perché poi ci saranno anche altre stagioni, insomma dipende Dopo un po' non avete più lo stesso entusiasmo nel... O magari non avete più delle belle idee da applicare, quindi insomma Vorrei cambiare un pochino Non so che ci dobbiamo dare, lo slancio o la TNT forse? Allora ho fatto un casino No! No, ho glicciato tutta la mappa Ho glicciato la mappa Cheste, vabbè Allora guardate, nuova giornata della mappa Abbiamo trovato in una chest uno stack di cobblestone Ci facciamo un pillar della madonna Come cazzo faccio? Tutti dall'altra parte Lì te la vai E sopra la nave, te lo dico solo Facciamo una cosa tecnica Grande doppia D Che fenomeno Questo qua solo non ci arriva Il problema è che io come cazzo scendo da qui Lascio le frecce l'idiosa Oddio ragazzi che partita di merda Ah ecco adesso casco e mi ammazzo Ok è morto, perfetto Che brutta Perché? Sarà il caso di concludere, vero? Esatto Powerpool Mi sa che ci sono sopra? Spero di sì 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 ci stai sopra No! No! Sì, stupare Via dalle scatole Ma no! Via dalle scatole Ok, ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Vai tu, vai tu, vai tu No questa me la farà Oddio il gol Che sputtavolo Fantastico il furgoncino Speri che si Oh mio Dio Visto quello Dove sei radice di via Ti vittano Ciao a tutti Ragazzi e benvenuti Su questa nuova serie Bordello Craft Esatto Il nome l'ha scelto Doppie a dieci Sì C'è Giulia che si fa i cazzi suoi Sì esatto Neanche ci parla Che vergogna Mettevi un F5 No c'erano i rani là Manzi Sono ancora visti Quindi Oh sentite Ci c'è il culo Ah merda Mi hanno avvelenato Oddio Oddio Pieno di merda No è pieno di merda No no è pieno di merda Oddio oddio Pieno di merda Sto per morire Manno avvelenato Madonna come lagga Giulia Io la vedo scattare Già hai fatto uno sprint Guarda che neanche Io sei involta Affucilate proprio Va avanti Guarda Si spara in avanti Guarda Ora si baccava in aria Ma non mi vedo Aspetta Aspetta Salve a tutti amici di youtube Io sono doppia di E benvenuti in questo nuovo video Sul mio canale Vorrei costruirmi una casa lassù in cima Ovviamente prima di arrivare lassù in cima Ci costruiremo qualcosa tipo lì a terra Insomma cose del genere Ora ci andiamo subito Potremmo farci anche la piscina interna Cioè ragazzi Non avete idea delle possibilità che abbiamo Cioè guardate quanto è figa Allora ora devo mandare la palla E non deve colpire i birilli Vediamo se ce la faccio a birilli Stai scherzando Perché Scusate da qui Allora proviamo ad usare Prima Questo E poi la ultra Qualcuno Vediamo se ammazza qualcuno Niente Non importa Tanto Madonna Dai hai rotto il cazzo Hai rotto il cazzo Dai hai rotto il cazzo Veramente Hai rotto il cazzo Madonna lo devo ammazzare adesso Adesso lo devo ammazzare Vaffanculo Stai fermo Stai fermo pezzo di merda Brutto pezzo di Madonna è imbattibile È imbattibile Madonna ti ammazzo Ti ammazzo Ti ammazzo Vieni Metti fuori il capino Metti fuori il capino Metti fuori Sì Muori muori Pezzo di merda Ti sei un pezzo di merda Quindi ragazzi Per adesso è tutto Da Doppia D è tutto Noi ci vediamo Forse in un prossimo video E niente Bella a tutti Ciao Ciao